Grazie a tutti. 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 ... 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 E poi ci sono un po' di una cosa che ha detto, ma... Perché ha detto, perché... Perché... Perché il mio signore si no... Il mio signore si no... Il mio signore si no... Perché eravamo noi due uguali? E' il mio signore... E' il mio signore... Ho, io ci sono i una compagno... Mi ricordo che... �co una sola planche. E' il mio signore, perfetto. Però come te vas a acordare... se acabate di dirvi... che non è davvero? Ne ho vediamo perché... io ecco perchè... voi stavate ne? Non... No ci sono davvero... perché voi stava qua quando... si ne era un lio... Non... Io non estava. Mi chica? Io sto sto... Ci sono state... Ci sono state... Ci sono state... Ci sono state... Come sempre... Lo si chi si fosse oggi! Ullo, ullo, aiutate a che si possa tutto, ma che si possa io, ullo, ullo, con il paio dios. Llego a qui e mi vengo sentato con un passato, che se senta così. Il motivo del conflicto carezca è la minor importanza. No, ma che carezca e che carezca, perché stava comparando con tu e io sarei capace di quello che stava facendo io. Però no, però non sto parlando di altra cosa. Si, chiaro. Quando io sto parlando, voi stia parlando di altra cosa. O studiati o non studiati. No, signor, non fu una pelea. Al contrario, lo traté con un signor, lo traté con mucha politica. Fijate se no. Tullio stava sentato. Me diga? Si. Tullio stava sentato. Mirate, impossibile che sia mia, Tullio, jamas ho sentato in questa situazione. No, no, no. Perdón, no. Tullio stava sentato aca. Il stava leyendo e chupando a me. Nunca tuvimos whisky in questa casa. Il stava sentato, leiendo e chupando a me. E voi che stava dando vueltas per lei. No, non lo viste però come dando vueltas per lei. De contrario. Si, come tu dices, ese dia io via, per un sentitio motivo. De segura personal. Io tendria che stare a pepecho. Osea, caigano con voi. Javier. Recuerda. Estabas aca. Me dejaste che stigia contando. Lo siento. No, no, no. Poi. No, no, no. Poi. No, no, no. Poi. 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 Patri. Poi. Poi. Non è per lei. No è per me. Poi. Poi. Tu non stava sentato aca, eh? Vos quedavano dando vueltas por ahi, e io qui entro... Padre il sudore, il caerà, sapere, eh? Echando a puntata. Por que no te estima resistenza a puntata? Io tengo una pergunte, e voi sapete, che è il mio, per esempio. E voi ve, il buon giusto non è una cosa presta, è una comunità integrable. Che queres dirci con questo? Io non visto bian. Io non visto bian. Io non volevo dire quello che non le stava una delle normazioni della mia gravità. Contentami lo che io ti pregunto, visto bian si o no? In questo della regla di sicur يessere la regla di sicuramente. Io non volevo dire anche che stava av usualmente. Un momento, io a qui non sto imposto a dire forse. Però si voi non stai disposti a dialogarlo. Voi lo ligno che vuoi che vuoi senti è ascolti a voi soli, engolosinarti con le parole. Che ti importa che vivi a noi, ma? Io ti conozco come se vivi a farino, mirà. Ademà... Voi fuite che pensate con questa lingua. A comprare voi. Con tuio. Pertura ha detto che vedo. Ma adesso dicete che è quello che pensate? Ma sai? E le facetci che prende la prima volta? Oggi era un tip, è un tip pregetivo di marigua. E lo prendono di regalo per loro. Questo è io. A me non mi regalo nina, guarda se io ando facendo i cittadini, no? Eccoci. La fritta di marigua, a parte delle formative quali La polizia è molto decorativa. E voi la accettate. Non ti importo la mia opinione, perché era così come tu! La polizia è moltoustosa. Perdonavo a quello del silenzio. No tengo nada di perdonare. No, por favor, te quiero perdonare. Perdonare, por favor. In tutto caso, perdonare. In tutto caso, perdonare. In tutto caso, perdonare dopo. E tu di malo. Io anche stavo un po' torpe. La verità è che trattare di guardare necessariamente le cose. Come la cosa? No, 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 no. Tu io stavo assentato. Vos che andabas dando vueltas per lì? E io credo. Ah, viste come te ricordaste. Perché, in definitiva, stavamo intentando delicida a Piturio, e tu erai della mia isola. E io credo. Ah, viste come te ricordaste. No, no, no. Lo que pasa es que vos me quedes envenenando la vida a mi. Vos me estabas comparando recién costulio. Un tipo que era un flor de... Un tipo lleno de lempe. No se por que tome un imperminente mecanismo. Siempre piensas que estoy argentino. Y no es así, eh. No, estoy comparando de costulio para acelerar sus defectos. ¿Para qué hacer precioso? Lo volví a hacer directamente. Vea si me voy a tomar el trabajo. ¿Y qué defecto tengo yo? Es pues, Piturio era un hombre fino, ¿no? Un mercado, el fin que dice. Era un señor... Todavía te tendrías que atacar la compasión. Estés olvidado cómo equiparó ese día la situación que en realidad es que estuviste pésimo que te guste. ¿Cómo? ¿De qué día estás hablando? Allá te has olvidado como te pusiste y lo trataste con eso del alma de Piturio. No, estamos hablando de diez distinto. Yo estoy hablando de diez de esa ventana. Y yo también. ¿Cuánto ventana? Porque acá me traigo más de una. Yo ahorro del día, que si no tengo la defensa de abajo. ¡Muyo! 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 Recuerdo que le pedí ese que me ayudara. ¡Muyo! 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 Como siempre, a él no le dijiste ni carajo. A él no le dijiste nada. ¡No le dijiste nada! Grazie a tutti 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 Buongiorno Grazie a tutti Buongiorno Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno 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 No, con l'importanza di un tiro. Uff, sì. Deveva che mi ha detto l'arba. Perché non è difficile? Sì, con la pena di tutti. Tutto lo real è infinissimo. Come si è una cosa che si è esaltamente la nostra vita. Quando non è caldo, non è difficile. E' stato molto avuto da tutti. Sono moralista? Sì, perché no? Si fuori di moralizzare, non mi sembra un video che una madre comitare. Non mi sembra di male a tutti. Non mi sembra di male a tutti. Non mi sembra di male. Non mi sembra di male. Non mi sembra di male. Abbiamo stato con l'arba di 100% e io le sto acercando a la chica. E che faccia anche una lecita senza di su quale? Perché è detto l'arba? Che voi. Vos viene nel tocato. And� a questo, per favore. Non ho ne ho non ho abrigato. Perdonate, mi conto la tocata. Ah, sì. ...claro, con un toro riba in mano... ...claro... ...claro... ...se riuscì perché stava... ...le tocava la... ...oste qualcuno deve... ...te la mano... ...tiene arma di mani con te, no? ...se prevede me lo penden a te, no? ...no... ...in una parte del pleno del pecho del paladero... ...tu con un testo rancamente sospechosa del cantante... ...a qui non funziona una conversazione che mi ha presentato... ...no, no, no, no... ...un momentito, eh... ...que yo también, antes de haberle apuntado a la chica... ...que ha tenuto una conversazione... ...bien profunda con ella... ...que te diga, si miento... ...cuál es la mente, es una relación que ustedes entienden? ...el momento, su cuerpo no acaba de enterarse... ...el momento... ...el momento, su cuerpo no acaba de enterarse... ...el momento, su cuerpo no acaba de enterarse... ...el momento, su cuerpo no acaba de enterarse... ...no es un problema... ...yo no soy cualquiera, Dolco, eh... ...el tipo de que se ha realchilado, no? ...yo no vengo en colectivo... ...y deja de echarme tierra... ...no, te la explotan tierras a mi... ...no, no, no, no... ...lo que pasa es que él está tratando... ...de demostrar que yo no tengo... ...o cual es mío para tocar la... ...el... 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 ...como se dice, Dolco? ...no es una madre... ...nooo... ...eso es otra cosa... ...ahhh... 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 ...hay gente que toca... ...se besan... ...se atranzan... ...y eso no quiere decir nada... Voi? C'è un diritto sobre mi per aver toccato il pezzo? Ale? Hazlo di nuovo Ale? Voi? Sobre il corso ti ho mandato io? Bueno Algún diritto tengo, no? Quando tu siano No, no A ver se lo sigo Ale? Alla le encanta si le vende Il pezzo Ese ladro ficare un piede Si la Delito di cese a mi No ti che madate Que le goberno a cantare Perché il nome siente Ni su edad Y su condicione mujer Va a ponerla Dalmo de una patada E' un verissimo culo. No, no, no se vai. No, non puoi. No, non puoi. Ora, non puoi. 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 E' un bon es ho. Te senti così che ti senti. Buono. Te senti. Te senti. Te senti. Tu hai una mirada hermosa. Enrique. Enrique Micholla. Enrique Micholla. Acabo di guardarlo per sempre in mio coraggio. No. Se queda. Se queda. Se queda. No, por él no sarà un problema. Él no lo va a volar. Se lo prometo, no lo va a volar. Ya pasó otra vez. Minifestense la idea. Y listo. Ahora que hay una mujer, me tocó el bebé. Chao, paciencia. Le va a volar. Juro. Muistare. No, no. Senta. Se lo prometo. Se lo prometo. Si. Se lo prometo. Ma prima cosa la mia. Molina ti miedo. Si, ojalá qui era miedo. Pagavano miré que miedo. Ma non può essere, come erano i due, si è il cittico che mi chiede a me. A me mi toco la medicina, a me mi toco. Bueno, la medicina non è importante, no? Usted mi simpatizzava, la licea entrata, la mia roba, no te... Acuérdate. No, no. Non può essere, io ho sento una casa, ma mi ha sentato, mi gustavo, no? Mi gustavo? Non può essere. Sì, è una cosa che è più ampia, è una cosa più ampia, è più ampia. che con un città. Ustedes, i giovani, che hanno tutto questo molto più risuoso. Con questa trezza? Certo. Per te è molto facile, con un compagno di soltanto per venire con la mia portacalla. Un momento, perché io non sono creduto per niente, ma sono intenzionato in valore la proposta. Che proposta? Si non ho capito, non ho capito. La proposta è la prima. Los tre o nattie. Non è così. Non è così. E di che mi ho ho capito? Non è questo? Che ci sono? Ci sono? Ci sono? Ci sono? E' tutti? E' giusto? Non è voluto in calcanza. Vos hai capito, le chiedo d'escuchare la sua bocca a lei. Vai in serio? Che è un pochè. Che è un pochè. Buon modo. No, non ho una faccia. Si io ho sentito, io ho sentito, e io ho sentito, e lei sta proponendo un cipulon trimazzo. Sì. Puoi sapere, hai una persona che a me se compiere. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Ero un genio, un maestro. Per alcune scuole, per aliviarlo, per esempio? A mi non mi verà nulla. Eh, perchè è sempre un punto di giugare con la città. Cosa? Mi non è conoscito. Un pantaloncetto. Seguro che non è educato. E se non vuole... E se non vuole che... E se non vuole che se fuori. Che se vuole da nulla. E se vuole da nulla. Il totale... Molto... Molto non è come questa. E se vuole da nulla. Molto non è venuta. Molto non è venuta. E se vuole da nulla. Molto non è venuta. È veram... Il totale. Cosa è il totale. È veram... È un peccato. È un peccato. Il totale. Io eravamo lungo e alza, me llegava a parar, a mi non parlava di sì, perché non sento un uomo che si ora salia conmì, andava conmì, se acostava conmì a voi. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.